Questa è la strada degli innocenti di Guidorelli, uno dei dipinti fondamentali dell'opera del grande pittore bolognese che vive tra il 1575 e il 1642, che occupa il quadro, un posto riconoscibile nella storia italiana dell'arte, si data intorno al 1611 e si interpreta normalmente proprio per quella astrazione, armonia anziché violenza e ferocia, naturalistica, fra le opere maggiori del cosiddetto classicismo e poi si aggiunge classicismo vaticano, perché si intende sottolineare la particolare efficacia poetica di un atto crudele secondo la narrazione liturgica dei Vangeli, ma che qui, nell'opera di quest'artista in questi anni, passa attraverso una interpretazione più armoniosa e dolce e con tutto ciò non cessando tuttavia di essere espressiva e a modo suo violenta, ma violenta come? Come un atto teatrale, come un atto appunto di finzione immaginativa. Guidorelli difinse questo quadro, non si sa bene se a Bologna era in San Domenico o a Roma durante una sosta della sua prima maturità romana, profittando dell'emozione che in lui era stata, come dire, provocata dalla visione di un gruppo famoso che si trova oggi nella galleria degli uffizi e che allora era stato individuato nel terreno del giardino di Villa Medici, appunto, quella su Alta, su Trinità dei Monti. Il gruppo delle niobidi, delle figlie di Niobe e il loro strazio, la loro uccisione, un tema classico e pagano che diveniva nella strage innocenti, riprendeva vita e appunto non poteva, state le origini, essere altro che una sorta di dimensione più cantabile, di un avvenimento forte, più armoniosa che non feroce. Il quadro è per la prima volta e improvvisamente, prima di altri che forse sono altrettanto significativi nella carriera di Guido, una sorta di dipinto di grande equilibrio anche formale. Forse serve dire che quella punta di quel pugnale che la Guzzino regge nella parte superiore del quadro è come il punto della stadera, cioè di una pesa, che regge due parti uguali per tensione e quantità figurativa. Le due parti sono evidentemente ispirate al gruppo di Niobe e delle figlie, come vi ho detto, ma nello stesso tempo rientrano a far parte, ecco perché il classicismo vaticano, di un mondo che nei musei vaticani, nelle raccolte vaticane che nascono nel 1505, per essere chiaro, trovano raffigurazioni come queste che hanno luogo per lo più nelle mosaici di tipo teatrale, sono cioè maschere teatrali. Questa è la figura della prima donna che regge il bambino qui sulla vostra destra, questa è anche la figura della donna, dall'altra parte di questa equilibrata composizione che sta sulla sinistra. La struttura centrale, ripeto, sta su questo punto che divide equamente la composizione. È chiaro che si tratta di una affondata, per così dire, che la cultura di Guidoreni fa nel mondo dell'archeologia classica, però senza accettare, come avrebbe successo nel Settecento, di ripeterne gli atti, le finzioni, ma in generale il problema degli equilibri, delle armonie e di tutto ciò che si riconosceva tipico del mondo classico, la bellezza del mondo classico riportata in vita nella cultura barocca. Infatti il primo a parlare di questo quadro è niente meno che Giovanni Battista Marino, che sarebbe oggi, come dire, Arbasino scrive un pezzo per un bolognese, che non è poco. Sette, come quello clamoroso della Santa Cecilia. Santa Cecilia dice che cantava plenis organis, con tutti i suoi organi, vocali. Certo. Chi ha tradotto, cioè San Gerolo, non credo, ha tradotto, cantava e su un bel organo. E di qui diventò la protettrice. Sembra mio figlio quando traduce l'attivo. E' esattamente una cosa del genere. E della storia, quindi, va avanti con il suo organo, che è frutto di questo errore di traduzione, e viene avanti e filma Wagner. Questo è bello. Beh, hanno poi le stesse date circa. Deve essere un pochino dopo questo qua. Qui è proprio in gioco. Perché lui non è un classicista come Annibale Carracci, che si rifonda il classicismo guardando a Raffaello simultaneamente. Ma lui proprio prende pezzi archeologici e li traduce un certo.